che stanno a simboleggiare l'attenzione dell'amministrazione ma di una città intera perché poi dalle associazioni, dai quartieri stanno arrivando le richieste di poter posizionare le panchine rosse il contrasto alla violenza sulle donne è un dovere che abbiamo tutti nel ruolo che ciascuno di noi ricopre, voi che fate informazione, noi che amministriamo, noi che eroghiamo i servizi siccome il contrasto alla violenza sulle donne si celebra il 25 di novembre ma è azione quotidiana abbiamo pensato di coinvolgere l'intero consiglio comunale lunedì sera alle 20.15 abbiamo invitato tutti i consiglieri ad essere presenti perché ci sarà un momento di incontro e di confronto con tre attori che abbiamo ritenuto essere i più qualificati per informare e aggiornare il consiglio comunale sulle azioni in campo per la prevenzione del contrasto della violenza sulle donne ma anche perché ci facciano qualche proposta e richiesta di quello che servirà a fare perché poi il consiglio comunale che è l'organismo che dà l'indirizzo alla giunta possa essere protagonista, ci saranno degli incontri di approfondimento nella commissione consigliare terza presso da Franco Brenna che è la commissione che ha al suo interno anche politiche educative prevenzione, servizi sociali, cultura e pari opportunità e quindi ci sarà un lavoro che parte lunedì sera di conoscenze innanzitutto e di coinvolgimento attivo dell'intero consiglio comunale grazie